La crostata è pronta e anche la pasta frolla, bella stesa, però adesso ho bisogno di creare delle striscioline E allora mi sa che mi avvalgo del mio pasta bike Lo scelgo nero, però devo regolarlo e quindi come si fa? Semplicissimo Togliamo la barra centrale Eliminiamo delle rotelline in più Rinseriamo E a questo punto allarghiamo E il gioco è fatto Voilà Nonna Alessandro, gioia mia! Ti disturbo! Ciao nonna! Nonno! Ma ti stavi facendo un massaggio? Scusa tesoro! Un massaggio? Ma no nonna, questo è il pasta bike! Pasta che? Pasta bike! Serve per tagliare le striscioline per la crostata! Ma dai! Ma dai! E come si usa? Guarda nonna, rimani là che adesso te lo faccio vedere, è semplicissimo! Vedi nonna, basta stendere la frolla e a questo punto appoggiamo il nostro pasta bike facendo una leggera pressione e guarda la velocità con cui andiamo a fare le striscioline per la crostata! Voilà! Il gioco è fatto! Ma pensa a te! E io che continuo a farlo a mano, una a una! Eh, beati voi i tempi moderni! Vabbè, ciao gioia! Ciao ciao ciao! Nonna, ma... Ma chissà cosa doveva dirmi nonna? Vabbè, io finisco la crostata!